Questo significa che i colleghi che lavorano su queste testate passeranno ad un editore che a nostro avviso, questa è la nostra opinione naturalmente, non dà le garanzie ai colleghi di un futuro professionale. Quindi per noi il fatto grave è che la Mondadori, che un tempo aveva 500 giornalisti, oggi ne ha 250, sta ancora liberandosi di testate e di giornalisti. Questo secondo me è la dismissione di un patrimonio storico editoriale italiano.